pausa pranzo questo è quello che è stato il primo video però ci devi fare una ridoccatina addirittura questo è il pasto che abbiamo consumato dopo dopo la corsa di colli saluta ciao papà diavolo a piccia ti sei mangiato la mozzarella abbiamo pure il prosciutto eh Fabio ti stai a fare un pezzetto oddio un pezzetto è questo mio poveri noi